Se a tavola abbondi il pane e il vino, queste mie mani, ringrazier dovete, sono cotte dal sol, neve e callose portano avanti di dieci mani operose, lavorano sempre, non sono mai stanche, valgono più di dieci mani bianche. Filastrocche e detti i popolari di una memoria di ferro a far da cornice ai 93 anni della pisarese Mafalda Filippini, da tutti conosciuta come Renata. Al caffè gastronomico Gemelli di Borgo Santa Maria, un lunedì sera di grande festa in famiglia per il traguardo di longevità della signora Filippini. Vedova da circa 18 anni, Renata è stata casalinga, cuoca all'ex d'Andonai e ha lavorato nel settore falegnameria. Per i suoi 93 anni è stata attorniata dall'affetto di amici e parenti in un incontro conviviale organizzato dai figli Mauro, Walter e Carla, alla presenza fra gli altri dei consiglieri regionali Michela Vitri e di Andrea Biancani, ora candidato a sindaco di Pesaro. Oh, e occhiociolina! Fammi entrare nella tua casina, oh, ma ti pare? La casa è mia, la porto via, ovunque vado sempre con me. Essi dicendo, quasi tremendo, dentro la casa si ritirò. Una quazzone da un nuvolone sovra la terra precipitò. Il bel grilletto, libero spietto, in un rifugio lesto saltò. La chiotolina con la casina in un forzato solo annegò. Bravissima!